C'è un presidio permanente contro la mafia e contro l'illegalità. Questo presidio è costituito da tanti, tantissimi cittadini attivi, è costituito dai nostri consiglieri municipali, Paolo Ferrara, Giuliani Pico, Manuela Camazzini, dai consiglieri regionali, a cui oggi, Davide Baritani e Silvana Di Nicolò, che vivono in quel quartiere, questo presidio che ha combattuto e combattuto ogni giorno, mettendoci la faccia sul territorio, contro la mafia. E con noi vogliamo commentare questa conferenza stampante per rinanziare tutti loro. Grazie. E iniziamo in oltre 40 pagine tutti i legami e tutti gli interessi della criminalità organizzata d'Ostia e soprattutto i legami di questa criminalità organizzata con la politica. Questa relazione la precederemo per il nostro segretore Gianlusso in comissione animale. Questa relazione la tendiamo presentata in comissione antimafia, dove chiederemo l'audizione di chi ha preparato il record e di chi ha collaborato al record. E successivamente, come si fa con tutti i documenti prodotti, la comissione antimafia si volerà in quella sede di lunga argomento. Quindi per rispetto al grande lavoro fatto dai portavoce e agli attivisti del movimento, in questa sede non vi verrà consegnato il rapporto, ma ne valdranno i soggetti interessanti a questo punto. Lascio la parola. Ringraziarmi che veramente è un bellissimo lavoro, lavoro, lo svolto. La domanda da quale siamo partiti è semplicemente questa. Come ha dovuto la mafia, quarta anni di storia, avere così tanto potere, avere così tanto potere, avere così tanto spazio, quando nessuno ha mai fatto nulla, in a destra, in a sinistra, quando anche un imprenditore, un imprenditore di banca, professionisti, tecnici che lavorano in municipio, in un politico, in una situazione di categoria, che in tutti questi 40 anni avevano chiuso gli occhi, quindi hanno messo il loro ruolo di antimafia, oppure in alcuni casi hanno favorito queste infiltrazioni. comuni. Questa domanda trova delle risposte a questa relazione. Trova delle risposte perché abbiamo analizzato, innanzitutto siamo partiti a livello di spermatica sociale, come a livello sociale il territorio di Ostia è stato influenzato, è stato coinvolto in questo affare, in questo grosso affare. E da qui siamo partiti a analizzare i campi eserchi ad Ostia e che farsi sul territorio, in un'altra fondo, in tutte le famiglie, in tutti gli interessi, in tutte le proprietà, tutte quelle infiltrazioni che viviamo nel commercio, a fronte di tutti gli aspetti. E da qui siamo arrivati al terzo capito, l'interesse di sua parte di radio, quindi quali sono gli attori coinvolti e su cosa stanno operando. E poi analizziamo anche il tessuto speciale del territoriale, per capire come la mafia ha potuto infilare nei grandi corpi del tessuto commerciale, del territoriale, dell'Ostria, dell'Ostria. Analizziamo anche la situazione antimafia, per capire che loro hanno svolto un ruolo effettivo e efficace, oppure hanno, in alcuni casi, un ruolo, diciamo, critico o dubbioso riguardo alla mafia d'Ostria. Tocchiamo del sistema mediatico, che in parte ha permesso che tante cose potessero succedere, ma è senza danno un risalto come avrebbe dovuto esserci. E vediamo alcune figure delle giornalistiche che, chiaramente, hanno avuto un ruolo centrale, e ancora oggi è un ruolo. E poi, toccare a una vista più importante, nel capito Rossetti, i rapporti con le proprie politiche. E qua dimostriamo che davvero tutti sono coinvolti, non solo Forza Italia che dì come sarebbe scontato da dire, che avremmo anche il ruolo di Casapava, il ruolo del Partito Socialista Italiano, il ruolo dei Serbi, e parliamo anche del Vito 5 Stelle, perché è il primo ruolo che sottolineiamo, ovviamente esterno, quello di successo, però, e vediamo anche cosa stanno facendo, pensare le immaginazioni, i carti che hanno subito. C'è un parlamento completo di quello che sta succedendo, di successo all'Ostria. Vogliamo, con queste relazioni, fare una cosa che forse nessuno ha mai fatto, perché ci sono sempre stati interessi di parco, come sapete, la volta che si partita sempre da uno dall'altro, quindi, quando magari la destra cercava di denunciare le cose in questo secolo in volta, prometteva il suo ruolo in alcune ricette, così come la sinistra, com'è che magari alcuni ruoli depidi in alcune sbattizioni. Quindi vogliamo invece fare, raccogliere tutti i pezzi di questo puzzle, metterli insieme, ma abbiamo davvero un parlamo completo. Perché parliamo di, parliamo di oltre sette clan che sono nativi all'Ostria, non solo i classici tre che tutti conoscono. Parliamo di tre segreti al traffico di coca, controlli sintetici, costituzioni, armi, usure, estorsioni. Ci sono gli esprimimenti padriani, esprimimenti commerciali, servizi pubblici, ma anche per i nuovi business, sale scommessi, sale bingo, negozi comprovano, sale slot. Quindi, in questi anni, la mafia si è realizzata o un bel gruppo influenzato per queste attività. e arriviamo per parlare di estorsioni, rarmi e diminuzioni di gestione negoziata. Di questo abbiamo molte evidenze nei vari articoli di Stato. E la collusione avviene attraverso un sistema di dati scompiacente. Qua stanno andando a fondo delle relazioni con tutte le attività informative che svolgono un ruolo importante su Oste. Perché se dalle entità informative, alcuni dietro di banca hanno un ruolo centrale, così come imprenditori, questo come imprenditoria vuol dire che anche la Stata, soprattutto, svolge un ruolo chiaro in questo ambito. Soprattutto siamo concentrati sul ruolo di turismo degli abbandi. Adesso avremo fondamenti anche per quello di quello ferrara. E poi, in un rapporto con i medici. Quindi, a Oste esiste questa sorta di pace sociale fra Stato e Banche che è stata costruita negli anni. Il Movimento 5 Stelle ha sempre trattato con attenzione per il tema delle spiagge, ricordando legalità del nostro vicino da sempre. Questi ultimi due anni, ricordo che il primo documento che abbiamo presentato è stato relativo alla richiesta di evoca del bando, del centro bando delle situazioni delle spiagge, coinvolto nell'ordinanza Almanuova, dove il direttore dell'ufficio tecnico Papalini ospitava di spargare il suo ufficio senza essere pregativamente alle spiagge. Abbiamo occupato il consiglio municipale a chiedere legalità. Siamo stati gli unici a fare la Costia. Legalità e trasparenza per le spiagge del ritornale romano. L'ultimo atto che è stato votato nel Consiglio Municipale riguarda un consiglio straordinario da voi richiesto per le spiagge dove rilentavamo in modo dettagliato tutto il malaffare e proporre sui problematiche soluzioni e le altre delle concessioni appartenenti all'unico 1. Per cui nessuno si esatti a sbagliare il lavoro fatto dei consiglieri e degli attivisti ai nostri. Applausi Allora innanzitutto io volevo dire che al contrario di quello che si semplifica attraverso i media spesso e volentieri, magari non tutti, Ostia non è mafiosa, non è Ostia ad essere mafiosa. Sono mafiose le persone che l'hanno gestita, che l'hanno governata, anche lì non tutti chiaramente. Però, se le azioni politiche non ci sono state, se l'attenzione della politica si è rivolta altrove ad altri problemi meno importanti, forse un motivo ci sarà. E quindi noi diciamo che comunque i cittadini di Ostia vogliono sicuramente un riscatto e il loro onore e la loro dignità ci impongono di non parlare di Ostia come di una situazione che coinvolge tutti e che sia mafiosa. Noi abbiamo ricevuto un'inaggia delle intimidazioni che stiamo, che è già denunciato dall'autorità, che stiamo poi in questa relazione, spieghiamo bene, ci sono comunque denunci dall'autorità e questo è un segnale per cui possiamo davvero dare fastidio e la mafia di Ostia si accorge che una forza politica che sta per gestire le elezioni su Ostia deve essere innanzitutto avvicinata e tentano comunque di avere un rapporto con noi e noi siamo fin dal primo momento negati in una parma amara. Quindi i messaggi sono già arrivati, sono stati già rispiti nel 2020, con il corocimento appunto dell'autorità. perché la mafia o la si fiancheggia o la si combatte, non si unisce con questo male. Chi si volta dall'altra parte è complice. Chi ha dagli occhi... ... ... ... Noi siamo molto determinati, non ci faremo fermare mai da tentativi, di infangarci, da minacce, nulla di tutto ciò ci ferma, siamo proprio qui a tutti i livelli per questo e non solo ci sono tutti i livelli istituzionali, ma fortunatamente ci sono milioni di cittadini dietro le nostre spalle, che noi confidiamo nella gente, nelle persone che ci seguono, che si informano e che sanno che questo Paese ha una sola via di uscita, liberarsi da questo cancro. e l'unico mezzo, l'unico treno sul quale salire per liberarsi da questo cancro è il nostro comimento Ciò che scrive. Grazie.